Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Alessandro Cecchi Paone commenta. Mai vista una cosa così? All'isola dei famosi i colpi di scena non mancano mai. Durante la notte alcuni naufraghi si sono resi protagonisti di un avvistamento che ha destato loro non poco scalpore e che sta facendo il giro del web. Nel dettaglio, Christopher Leoni ha rivelato a Marco Mazzoli e Paolo Nois di aver notato una strana entità sulla spiaggia. Nel corso delle ultime ore i naufraghi dell'isola dei famosi hanno avvistato qualcosa di particolare mai visto prima. Stando alle parole di Christopher Leoni, pare che alcuni dei concorrenti di questa nuova edizione dei reality abbiano avvistato un'entità strana e luminosa sulla spiaggia. Questo è quanto rivelato da Christopher Leoni a Marzo Mazzoli e Paolo Nois. Stanotte ho visto l'animale della foresta. Era un essere brillante. L'abbiamo visto laggiù. L'abbiamo avvistato io e Natalie. Volevamo svegliare anche Elena. Era grosso e tutto luminoso. Non salta. Cammina e si muove normalmente. Non penso che sia qualcosa di pericoloso. Giuro che l'ho visto davvero. In Brasile ci sono di queste cose nelle foreste. Storie di folclore. Ma sono verissime. Le parole del naufrago sono state poi confermate da Alessandro Cecchi Paone. Il quale ha rivelato di non aver mai visto nulla di così particolare fino ad ora. Queste sono state le sue parole. Un omino luminoso sulla montagna? Oddio ma l'ho visto anche io ragazzi. Color giallo. Luce gialla lassù. Impressionante. Mi sono chiesto cosa potesse essere. No che non era la luna. Era davvero altro. Sono serio. Sapete che sono scettico e su tante cose non sono d'accordo. Stava fermo e poi si muoveva un po' in mezzo agli alberi. Poi se n'è andato e poi è tornato. Ma grande. Non era una cosa piccola. Le storie del folclore su gnomi. Fate e Folletti le conosco. Si parla anche di spiriti della natura. Però devo essere onesto. Io una cosa così strana non l'avevo mai vista. Sono rimasto in difficoltà e senza parole. Non so cosa possa essere. E, continuando. Alessandro Cecchi Paone ha poi concluso. Sì era un'entità luminosa color giallo chiaro. Io non dispongo di strumenti scientifici per poter dire cosa fosse con precisione. Mi sono detto. Ma sto sognando? Non scherzo. No. Non stavo sognando perché poi ho continuato a vederla. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.